Ciao, io sono Cristian e questo è Insolito Trantravel, un progetto ideato da me e dalla mia compagna Elena che puoi vedere nel banner del canale qui sopra o in tutta la sua bellezza nel nostro profilo Instagram. Profilo Instagram nel quale tutto è nato nel marzo 2018 con l'idea di portarvi con noi in giro per il mondo. Un'idea di travel blogging come tante altre che però ben presto si è trasformata in una community di persone che il mondo non volevano solamente vederlo attraverso i nostri occhi ma volevano conoscerlo. Per questo abbiamo introdotto fin da subito delle curiosità in pillole di 15 secondi nelle storie e subito dopo anche dei quiz che permettessero a chi ci seguiva di conoscere qualcosa di nuovo ogni giorno in maniera divertente e sfidante. A queste iniziative poi abbiamo aggiunto questo canale YouTube, un canale dedicato a coloro che amano conoscere il mondo, a coloro che adorano l'antropologia, la storia, la geografia, a coloro che non si accontentano di sapere in quali stati venga coltivata la barbabietola da zucchero. Ogni giovedì circa pubblicherò un nuovo video che spero sia divertente e stimolante, affronteremo diverse tematiche dai fusi orari alle mappe alle strutture urbane delle città, le curiosità regionali e quindi se sei interessato a questa tipologia di argomenti ti invito a iscriverti al canale attraverso il bottone rosso qui sotto e ad attivare se lo vorrai la campanellina per ricevere tempestiva notifica dei nuovi video. Io non vedo l'ora di conoscerti e di conoscere il mondo insieme a te. Ciao ciao! Ciao!